Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Arche di Parla, sono finito di riuscire a provare la modalità zombie Undead Siege di recente aggiunta su Code Mobile ed ero comunque abbastanza interessato, già dal trailer, a parte per la presenza di Primis che comunque tra poco ci arriveremo tutte quante queste nuove meccaniche tra virgolette tra zombie normale e qualcosa tipo un pochino tower defense di difendere la base sembrava comunque una modalità alternativa e appunto volevo vedere i cambiamenti che avevano fatto a zombie tutto quanto quello che avevano cambiato, se in meglio o ovviamente in peggio in più ancora una volta c'è uno di Primis nel trailer ed è una cosa veramente interessante sia per i personaggi anche se già sono presenti su Code Mobile ma specialmente per i doppiatori originali inglesi per Richtofen, Nicolai e Dempsey mancherebbe come al solito il doppiatore di Takeo che purtroppo è stato poco bene quindi non può ridoppiare il suo personaggio in aggiunta ringrazio mia sorella che ha un programma di registrazione per il telefono per cui il gameplay non è malissimo perché altre volte in passato per Code Mobile ho utilizzato alcuni programmi per telefono stesso dall'App Store e non è che fossero il top, anche in questo caso purtroppo manca l'audio perché il mio telefono è troppo vecchio per supportarlo ma quello è un caso a parte, inoltre ho giocato con il controller di PS4 perché come al solito giocare con le mani non mi ci trovo benissimo e con il controller tutto quanto ha un feeling un pochino più classico di Call of Duty anche se Code Mobile non dovrebbe esserlo al 100% per quanto riguarda il funzionamento di questa modalità partiamo appunto in una base, in una mappa Battle Royale di Code Mobile che è comunque abbastanza grande e tutto quanto possiamo andare in giro a raccogliere come fosse un pochino epidemia o un battaglia normale anche se appunto ci sono gli zombie dopo un pochino di tempo, circa 1 minuto e 30, Richthofen verrà a teletrasportarci torneremo tutti quanti alla base che andrà difesa da orde e orde di zombie possiamo inizialmente costruire soltanto una torretta, poi saranno 2, 3 e 4 e con tutte quante all'essenza i soldi possiamo comprare munizioni, armi, altri oggetti tutto quanto per appunto difendere per bene tutto quello che ci circonda e non morire noi stessi devo ammettere la prima partita che ho fatto che era in difficoltà normale, in seguito ho provato anche Hard Mode tutto quanto non mi stava ispirando troppo, ho fatto l'errore classico di magari mentalmente confrontarlo a quello che è il zombie di Cold War ed è la cosa più sbagliata possibile dopo tutto Cold War e Code in generale sono prodotti premium tra virgolette Cold Mobile è un gioco per telefono gratuito che tutti quanti possono scaricare e provare senza alcun problema c'è da dire che questa modalità Undead Siege è molto molto pesante e il mio telefono che è un pochino più vecchiotto di quasi 5 anni ha fatto ogni tanto fatica a reggere tutti quanti gli zombie su schermo e vi consuma la batteria in una maniera incredibile tolto questo che potrebbe essere comunque un punto a favore perché fa capire la frenesia la quantità di zombie e comunque in parte la difficoltà tutto quanto appunto inizialmente si svolge in maniera molto tranquilla c'è matchmaking obbligatorio per 4 player quindi se siamo in 2 o in 3 comunque troveremo altri giocatori completamente a random in una modalità standard anche se stiamo giocando con gente che non sa fare assolutamente niente morire o perdere è veramente difficile e sono soltanto 3 notti per quanto riguarda invece l'hard mode sono 5 notti molto più impegnative io ancora non sono riuscito a completarlo perché se è una squadra ben organizzata bisogna stare davvero attenti quella che è la modalità standard offre comunque una specie di tutorial per capire bene come si gioca che comunque secondo me non è affatto necessario tutto quanto ci si può arrivare letteralmente 5-10 minuti è tutto molto tranquillo in generale quella che è la ranch, l'arma corpo a corpo che utilizziamo principalmente è molto molto forte sia per uccidere zombie, uccidere boss e anche riparare torrette e tutta quanta appunto la base da difendere che poi sarà appunto curata e riparata e possiamo sopravvivere più a lungo possibile ci sono inoltre tantissimi zombie esclusivi di COD Mobile per cui a parte quelli standard, i cani e i warden, il direttore e il guardiano di Mob of the Dead altri zombie molto più grossi e molto più resistenti che appunto vengono da COD Mobile che ci sta come qualche altro zombie impegnativo o comunque differente rispetto a quelle che sono gli zombie standard che vediamo nelle modalità classiche o anche su Doha per fare un esempio e per quanto ci siano comunque meccaniche del passato di zombie anche qualcosina di epidemia per quanto riguarda avere una mappa molto grande poter raccogliere magari oggetti in giro ci sono anche i distributori dei perk ho trovato quello che dovrebbe essere il quick revive, la stamina un'altra cosa che penso sia elemental pop o direttamente l'electric cherry e cose del genere tra cui anche dei piccoli eventi che una volta completati danno tantissime tantissime ricompense come al solito le armi di diversa rarità alcuni piedistalli che servono per potenziare o comprare più torrette tutte cose del genere che appunto danno più possibilità alla partita di essere complicata e specialmente in hard mode cercare di sopravvivere a orde infinite di zombie molto molto resistenti si ottiene un pochino lo stesso feeling che c'era nel zombie classico di circa un anno fa per cold mobile per cui molti zombie sono un pochino bullet sponge hanno tanta tanta vita ma con le armi giuste e le torrette sparando tutti quanti assieme in un team da 4 comunque vanno giù in maniera abbastanza veloce bisogna stare comunque attenti per dirlo da soli non si potrebbe fare assolutamente niente tolto tutto questo in più nel gioco c'è anche un battle pass completamente a parte per zombie che non va acquistato con 50 livelli e tante belle ricompense questo per chi sta giocando a cold mobile e vuole qualche contenuto in più per zombie è veramente il top ripeto un pochino in testa purtroppo lo confronto con cold war ed è la scelta completamente sbagliata pensiamo a qualcuno che ha un telefono comunque abbastanza potente o qualcosa che può reggere decentemente questo gioco giocando a siege e può continuare a sbloccare tante ricompense senza alcun problema è una bellissima esperienza per quanto riguarda zombie e oltre che questo per i veterani che tornano dovrebbe esserci transit in questa mappa io ho visto soltanto un pezzettino del diner e tutta quanta boost depot e oh mio dio l'effetto è stato veramente strano è chiaro c'è la grafica di cold mobile nulla di assurdo per quanto riguarda potrà essere confrontata a una possibile remastered o remake che potremmo vedere in uno zombie chronicles 2 ma ciò nonostante è qualcosa di veramente molto molto bello e davvero interessante è aperta pure la parte inferiore di boost depot di deposito c'è un evento per un cristallo gigante da distruggere per i cristalli ethereum tanta bella roba l'effetto desiderato secondo me c'è stato per quanto riguarda alcune notte di difesa molto molto impegnative estremamente frenetiche con tanti tanti zombie davvero resistenti e comunque un certo gioco di squadra per quanto riguarda torrette, munizioni, equipaggiamento, granate, curarsi, rianimare un compagno comprare un juggernaut, macchina da guerra cose del genere e appunto una modalità hard mode tutto quanto è molto molto impegnativo mentre quella che ha difficoltà standard forse per certi versi è troppo facile solo tre notti e anche giocando con player non troppo esperti si può riuscire a completare con pochi problemi forse una via di mezzo per quanto riguarda soltanto quattro notti e un pochino più difficile con le giuste ricompense sarebbe un'ottima idea perché hard mode appunto tantissimi dicono che è estremamente difficile e poche persone ben organizzate riescano a completarlo ho comunque fatto soltanto circa 3-4 partite ho giocato un'oretta e qualcosa quindi non un'esperienza veramente incredibile ma questo secondo me è il funzionamento di code mobile e anche di questo zombie qualcosa di adatto a fare una partita che possa durare 15-20 massimo 30 minuti e si fa ogni tanto mentre comunque siamo in giro io gioco con il controller per comodità anche perché è in bluetooth e anche per l'abitudine per quanto riguarda i comandi alcune cose purtroppo devo comunque cliccare lo schermo che si ha per le torrette o altre piccole cose del genere ma tutto il resto posso mirare sparare, ricaricare, scivolare fare tutte queste cose con il mio bellissimo controller chiaro che il feeling di tutto quanto che sia il controller stesso i tasti per quanto riguarda sparare e uccidere il lag e cose del genere è un gioco per mobile non potete aspettarvi qualcosa di incredibile o simile a com'è un code normale su console o pc quello che posso dire è sicuramente molto meglio rispetto allo zombie precedente e comunque qualcosa che finisce a durata limitata non va avanti all'infinito anche perché secondo me certe notti più avanti sarebbero letteralmente impossibili specialmente in hard mode se siete in telefono e siete comunque interessati a questa modalità provatela perché secondo me ha un ottimo potenziale si è migliorata come si deve e appunto tutte queste ricompense per chi gioca molto spesso code mobile sono un punto a favore le ricompense di Rick Tofen o mio dio vedere questi primi se un pochino fa soffrire in senso buono per quanto mi riguarda ovviamente tutto quanto non è canonico per quanto riguarda la storia etere o etereoscuro per cui rivediamo questi personaggi soltanto per bellezza e ripeto che fossero già presenti su code mobile stranissimo il loro ritorno per quanto riguarda i doppiatori originali in inglese non so se è una scelta di marketing o simili però appunto le voci sulle loro anche no la north per Rick Tofen è una cosa veramente stranissima c'è a dire che comunque questa modalità non è che fanno delle battute così incredibili sono alcune vecchie battute del passato comunque questi sono i loro personaggi ma non ci sono altre informazioni per quanto riguarda qualcosa del passato o il futuro sono comunque appunto i nostri primi se un pochino fermati nel tempo e utilizzati per questa modalità in cui noi siamo giocatori completamente casuali e siamo qui un pochino ad aiutarli in conclusione non male questa è un deciso sicuramente farò altre partite per vedere altri funzionamenti se lo aggiungeranno cambieranno alcune cose e appunto tutta quanta la mappa del battle royale secondo me è una buona scelta perché è veramente grande e comunque gli zombie in giro ci sono non sono un pochino come epidemia la concentrazione principale piuttosto a raccogliere lutti in giro e erodropo cose del genere gli zombie ogni tanto sono per punti munizioni o piccole cose del genere tutto quanto comunque contrapposto invece alle notti in cui gli zombie ce ne sono forse anche troppi fatemi sapere un pochino se voi avete già provato questa modalità o se la proverete appunto in futuro vi ricordo Cold Mobile funziona su praticamente qualunque telefono ma questo Undel Siege è molto molto pesante e vi consumirà la batteria molto in fretta non so se è il mio telefono che è abbastanza vecchiotto quasi 5 anni però comunque state attenti il video quindi si conclude qui spero come assolta che vi sia piaciuto e vi sia stato utile se volete in descrizione trovate tutti quanti i miei social tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord ci vediamo come sempre al prossimo video un abbraccio ala ala Grazie a tutti